Musica Cari spettatori, bentrovati a questa edizione del TG Mattina. Oggi è venerdì 20 settembre 2024, Sant'Eustacchio. Subito le prime pagine dei quotidiani oggi in Edicola Novara, VCO della stampa Dio a Cristian Argurio, direttore sportivo del Novara. Rinviata alla gara di stasera a Bustarsizio, il presidente Lomonaco era come un figlio, l'avevo voluto qui per fare cose grandi. Aveva 52 anni da martedì gravissimo in ospedale, camera ardente allo stadio Piola. La messaggera del cuore premiata a Roma, Serena Sagliano, capo di gabinetto della Questura di Verbania, ha programmato nel 2023 diversi incontri di formazione a cui hanno partecipato più di 80 colleghi poliziotti sull'uso del defibrillatore e su pratiche di primo soccorso. Le notti mondiali dell'hockey celebrano un amore ritrovato e Novara festeggia con i tifosi. Stasera la città si tinge d'azzurro con spettacoli, cene e negozi aperti. Mercoledì al Palaigor erano in 3.500 in coda per assistere Italia e Spagna. Le sfide, scusate, le sfilate degli atleti delle 66 squadre hanno contribuito a creare il clima giusto. Daniele Andretta, presidente del comitato organizzatore, sorpresi di vedere così tanta gente a una partita in un giorno feriale. Ora il gran finale. E al via i quarti. Di finale la rassegna regala le ultime emozioni, oggi in pista l'Italia. E oggi ci sarà anche la Pijama Run della Lilt in centro città, oltre 800 gli iscritti. L'appuntamento è dalle 17 in piazza Puccini. Pasticcio sull'appalto del centro sportivo. La gara sarà da rifare. Da 5.200.000 l'appalto riguarda la gestione del complesso del terdoppio, il caso sollevato dal PD. Il comune è pronto al nuovo bando dopo le verifiche. Ivan De Grandis, assessore allo sport. Il mio compito è dare l'indirizzo amministrativo, ma non scarico le responsabilità. Nicola Fonzo all'attacco. Ci sono evidenti errori, sia nella forma che nella sostanza. E poi torna la Igor Volley. Domenica sera al via l'opera di smontaggio al Palasport, che lascia spazio nuovamente alla squadra di pallavolo. E' morto il direttore sportivo degli Azzurri. La Camera Ardente Alpiola, responsabile sportivo del Novara Football Club, voluto a febbraio da Lomonaco. Colpito da un infarto in casa, l'allenatore Gattuso. Siamo sconvolti. Cristiano Argurio aveva 52 anni, lascia la moglie e il figlio di soli tre anni. In pochi mesi si era fatto apprezzare per pacatezza, dialogo e doti professionali. E stasera non si gioca a busto, rinviato il derby del Ticino per lutto. Il recupero è fissato il primo ottobre. A Imolo arriva il sistema tutor contro gli eccessi di velocità. Siamo a Orta San Giulio. E poi il sindaco di Boca, Andrea Cerri. La scuola media non chiude. Falso allarme. Un telescopio in dono all'osservatorio di Suno dalla famiglia Minoletti di Re. E poi tasse non versate al comune, trecate in cassa a 140 mila euro. Chiuso il contezioso con birla carbon. Esporais a Novara. Riscopriamo insieme la bontà dei nostri risi. La manifestazione nel Salone Borsa è arrivata all'undicesima edizione. Oggi e domani è proposta anche la biciclettata fino alla cascina Maiolo. Sfida al Broletto, tra scienziati, anche il comico Filippo Caccamo. Stasera a Novara dalle 20.30. Renzi e Dio si dimettono cinque dirigenti di Italia Vieva. No al campo largo. Le bancarelle boutique domenica arrivano in corso 23 marzo. Intanto stasera c'è la Notte Bianca in centro. Domani in Viale Roma. Andiamo nel VCO. Due auto bruciate in un giorno. Cannobbio è caccia al piromane. La prima ieri mattina. La seconda all'ora di cena sempre allo stesso posto. Il rogo è doloso. Sottotetto in fiamme. A Premeno. E poi i migranti a Gravellona Tocce. Se ne riparleranno il 2025. L'ex albergo Sant'Antonio non è a norma. Servono lavori consistenti. A Cannobbio un muratore precipita nell'ufficio di una banca. Ieri mattina il tonfo e la caduta. Domodossola dà il teaser ai vigili urbani. Si parte con due pistole elettriche. La sperimentazione durerà sei mesi. Manca solo l'ok del consiglio. Il benvenuto agli alpini e dei ragazzi. A Omenia. Eventi da oggi a domenica. La mostra al Gobetti. Apre il raduno. Alle 21 sono all'orchestra dei liceali. Con i nostri piatti vogliamo valorizzare la storia dell'ossola. Andrea Ianni, lo chef della trattoria Vigezzina, sarà dopo un Bianca. Propone un classico delle sue proposte. Il carpaccio di cervo. Amo sperimentare. Nei miei dolci c'è anche la verdura. Così fa a Biotisti il pasticcere di Domodossola. Martedì alla baita Motti farà il dessert. Limone, pino e barbabietola. Unione di tradizioni e novità. E poi altri appuntamenti. Ricordiamo Alberto Musi, amico e uomo esemplare. Oggi a Novara il dialogo tra autori del libro e Alessandro Battaglino sul docente ucciso nel 2013. L'attuale direttore dell'ASSA fu il personaggio chiave per gli investigatori sulle tracce dell'assassino. Al circolo dei lettori per il libro L'uomo con il casco. Artisti di strada tra altri show nella patronale Alvia stasera a Gagliate. E poi ad Arona parata di DJ e allievi creativi aspettando Clementino. Il granito verde di Mergozzo compie 100 anni. Stasera si ripercorre una storia partita nel 1924. Quella cava ancora tanto da raccontare. Lo stresa Polifonics a Vogogna con musica sacra e contemporanea. Oggi alle 21 il coro si esibisce in chiesa con il concerto di fine estate. Poi lo sport tra Igor Novara e Conegliano e un duello ai piedi del Bianco. Alle 20.30 su Rai Sport alla semifinale della Courmayeur Cup. Nel pomeriggio Milano-Scandici. Un remake degli ultimi play-off di A1. E poi Alfredo Boglio sale in Serie A. Ripagherò la fiducia che mi ha dato Pistoia. Un altro cestista novarese alla ribalta. Occhi puntati sulla pista Pragerolo. Si assegna il Gran Premio d'Italia. Autocross. Stasera maggiore il prologo con la Notte Bianca e la sfilata delle nazioni partecipanti. Canoa Agata Fantini. Ancora tricolore. Oro anche per Luca Micotti. E poi calcio di lettanti. Terza categoria. Girone Novara. Un poker di club dal Vercellese. I settimanali della Diocesi. L'azione entro fine anno riapriranno i tre ponti chiusi della città. Luce in fondo al tunnel. Prospettive di sollievo per il traffico. Il cavalcavia 25 aprile ha doppio senso a fine ottobre. Il Consiglio Comunale dei Bambini ha accolto i campioni dell'hockey a Novara. Poi l'informatore Stelle Padelle per aiutare l'ospedale di Borgomaniero. Giunge alla settima edizione. La manifestazione che unisce gastronomia, solidarietà, artigianato, sport e turismo. E poi sagra di fine estate la folla e l'allegria alla festa dell'uva di Borgomaniero. Il verbano tra carabinieri e vice o trasporti. Patto contro il bullismo sui bus a beneficio soprattutto degli studenti. Un protocollo di accordo per la vigilanza e i comportamenti virtuosi. Siamo alla pagina nazionale, la prima pagina nazionale della stampa. Armi in Russia, sì, dell'Unione Europea. L'Italia però non ci sta e si sfila. Mosca minaccia. Avanti così. E ci sarà una guerra mondiale nucleare. La votazione all'Europarlamento divide PD e Forza Italia. Lega e Fratelli d'Italia. Contrari sulla pelle dell'Emilia. Due dispersi. Polemiche dopo l'alluvione. Musmeci attacca sui fondi. E Schlein basta con lo sciacallaggio. Poi il Corriere della Sera. Danni dispersi. Scontro politico sull'alluvione come abbiamo visto. Scuole chiuse e tanti gli sfollati. Tanti si sono messi in salvo raggiungendo i tetti delle proprie case praticamente sommerse dall'acqua. Raidi in Russia, sì, dell'Europa. La risoluzione a Strasburgo. Mosca sarà guerra nucleare. Draghi nell'Unione Europea. Mercato unico dei capitali. Si lavora su due fronti. Quello di guerra e quello economico. Il no italiano sui missili. Senza limiti. Poi Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD approvano il testo finale. Andiamo al sole 24 ore. Hezbollah e Iran pronti a reagire contro Israele. Blinken non all'escalation. Però la situazione sembra precipitare. Ci sono dichiarazioni. Intanto sono stati colpiti 100 lanciarazzi dalla difesa di Israele in Libano. Ma si teme una guerra totale in Medio Oriente. Tra l'altro Trump annuncia che ripristinerò il travel ban. Dovesse essere rieletto. Vieterò l'accesso ai rifugiati da Gaza. E poi c'è il bonus di Natale. 100 euro senza tasse. Arriva l'Imu semplice. Via 250 mila aliquote. Questo è stato anticipato dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo. E in chiusura andiamo a vedere la situazione del meteo. Molto semplice perché avremo un tempo poco nuvoloso per tutto. Il fine settimana a 14 gradi la temperatura minima. 23 gradi quella massima. È tutto per questa edizione. Vi auguro un buon fine settimana. Ci rivedremo con il TG Mattina lunedì a partire dalle 7. Per quanto riguarda il TG Question Time. Vi aspetto questa sera con l'intervista al sindaco di Novara alle 20.15. Poi domenica un altro appuntamento con gli ospiti che ci racconteranno. Risiamo l'evento in programma per il 28 settembre presso Iper3 al centro commerciale San Martino di Novara. Arrivederci. Grazie a tutti.